come costruire un passaggio segreto su minecraft a cui riuscirai ad accedere solo tu ecco quello che vedremo oggi in questo video un passaggio segretissimo che sfrutta la prateria di mare invece del riconoscimento facciale infatti sfrutteremo un meccanismo per il riconoscimento della prateria di mare e creare allora un passaggio segreto come quello che stai vedendo al video e se non lo vedi significa che funziona allora ora la sigla del canale e vi saluti a fine video ciao sono Marco Vigelini se questo è il primo video che segui sul mio canale allora ti invito ad iscriverti cliccando sul pulsante iscriviti ed attiva tutte le notifiche cliccando anche sulla campanellina in questo modo non perderai i miei prossimi video allora passaggio segretissimo super tecnologico che invece del riconoscimento facciale andrà a sfruttare il riconoscimento della prateria di mare quando mi avvicino su questo punto e prendo in mano la nostra prateria di mare guarda cosa succede 1, 2, 3 e sono passato andiamo a costruire insieme questo meccanismo particolarissimo andiamo ad aprire la nostra cassa e vediamo quali sono i materiali che ci servono per costruire questo passaggio segretissimo gli ho distinti in tre zone ci serve un secchio d'acqua, un'insegna di betulla, un'insegna comunque una lastra, poi un blocco di terracotta che farà parte della struttura del nostro muro poi qui abbiamo tutta la parte elettrica una lampada, una pedana a pressione, una porta di ferro uno sgancio, un pulsante, una tramoggia della polvere di pietra rossa, un ripetitore di pietra rossa ed infine un comparatore di pietra rossa qui avremo un uovo di tartaruga e una prateria di mare che sono le nostre chiavi per aprire il passaggio segreto costruiamolo adesso allora immaginiamo che tu debba costruire lungo questa struttura quindi questa sarà la tua porta del passaggio segreto ok? allora su questa indicazione grafica andiamo a prendere gli elementi che ci servono questo blocco d'erba lo togliamo, ci serve il secchio d'acqua, l'insegna, la lastra il blocco di terracotta, poi un pezzo della parte della pietra rossa la lampada, la pedana, la porta e poi l'uovo di tartaruga allora costruiamo insomma parte del muro uno, due e il terzo blocco mettiamo quello, la lampada di pietra rossa poi ti spiegherò a cosa serve poi uno, due blocchi, uno, due blocchi questi le scaviamo quattro uno, due, tre e quattro poi prendiamo l'insegna di bedulla una, l'insegna, comunque non strettamente quella di bedulla poi prendiamo la lastra, ne posizioniamo una in questo punto poi incominciamo ad allagare questa zona un secchio d'acqua qui, un secchio d'acqua a fianco poi prendiamo la nostra lastra e facciamo uno, due, tre, quattro qua dentro scendiamo e cominciamo a mettere la nostra tartaruga e poi proviamo a completare il passaggio in modo tale da evitarne la fuoriuscita la nostra tartaruga dovrebbe rimanere al suo interno poi andiamo a completare la struttura del muro e contiamo uno, due, tre e quattro poi saliamo per contenere la nostra porta di ferro che mettiamo esattamente in questo punto non abbiamo ancora utilizzato le pedane a pressione perché le andiamo subito a collegare al nostro meccanismo di pietra rossa prendiamo allora lo stretto necessario lo sgancio, la tramoggia e poi un po' di polvere di pietra rossa cosa colleghiamo? colleghiamo la polvere di pietra rossa uno e due esattamente in questo punto poi qui mettiamo la pedana a pressione una, la seconda pedana a pressione in questo punto facciamo il nostro consueto meccanismo di trasformazione del pulsante come una leva ci sono dei miei video a riguardo mettiamo uno sgancio rivolto verso l'alto poi uno sgancio rivolto verso quella direzione poi distruggo momentaneamente questi blocchi e metto uno sgancio rivolto verso quella direzione ok? guarda la freccia con attenzione poi una tramoggia esattamente sopra questo sgancio così mi sto accucciando e la direzione è verso il basso poi all'interno di questo sgancio metto un qualunque blocco uno solo e vado avanti prepariamo il percorso che ci permetterà di raggiungere la nostra porta di ferro allora esattamente in questo punto scaviamo tre blocchi uno, due e tre poi cinque blocchi scavando di due blocchi uno, due uno, due terzo quarto e quinto poi verso questi blocchi nuovamente scaviamo due uno, due e poi solo uno e uno questi blocchi avevo detto che erano temporanei li possiamo coprire poi questo blocco esattamente sotto la porta di ferro bisogna assolutamente distruggerlo allora apriamo la nostra cassa prendiamo il materiale necessario il comparatore di pietra rossa il ripetitore di pietra rossa il pulsante di betula e mi sono accorto che non ho preso la torcia la torcia che adesso trovo la ho io torcia ok la torcia di pietra rossa ok perfetto allora dove sono esattamente in questo punto avendo preso anche la pietra rossa posizioniamo la pietra rossa esattamente in questo punto poi prendiamo un blocco quello del muro per esempio posizioniamolo qui qui diciamo ci sarà il nostro muro proviamo a completarlo anche leggermente da quest'altro lato ok immaginiamo che sia un qualcosa del genere ok poi lo completiamo esattamente in questo punto andremo a posizionare il nostro pulsante e lo colleghiamo al circuito la rimanente parte del circuito viene costruita in questo modo comparatore di pietra rossa in questo punto il ripetitore in questo punto e poi portiamo la polvere di pietra rossa fino a questo punto scendiamo in basso e poi esattamente qua sopra in questo modo andiamo a posizionare la torcia di pietra rossa se noi adesso cliccassimo il nostro pulsante vedremo che la porta si apre e si chiude soltanto con la pressione del pulsante ora andiamo a testare il tutto anche con la nostra prateria di mare allora andiamo a prendere la nostra prateria di mare e vediamo se tutto sta funzionando allora il concetto è anche il funzionamento di questa lampada lo vedrai adesso nel pieno funzionamento lo vedrai adesso prateria di mare cosa succede? la nostra tartaruga si avvicina e la nostra porta si apre quando noi togliamo dalle mani la nostra prateria di mare la tartaruga va indietro e la porta rimane non alimentata quindi noi saremmo entrati con questo pulsante possiamo chiuderla possiamo ovviamente riaprirla per uscire e per chiuderla abbiamo due possibilità da questa distanza possiamo sicuramente chiuderla oppure nuovamente con la prateria di mare chiamare la nostra tartaruga la quale piano piano si avvicina e mi chiuderebbe il tutto cosa serve questa lampada? ogni tanto la tartaruga rimane un po' troppo sopra la pedana a pressione per evitare questa cosa e quindi te ne accorgi stando all'esterno dall'accensione di questa lampada devi semplicemente passare velocemente ecco come ho fatto io dalla prateria di mare ad un altro blocco e la tartaruga si allontana ok? quindi ti accorgi che la tartaruga non è presente sopra la pedana a pressione quindi puoi riprendere la prateria di mare attendere che la tartaruga sia a vicini come in quel caso ok? entrare dentro qui adesso metteremo del vetro togliere la prateria il circuito si disattiva e tu lo puoi chiudere a mano andiamo a completare il tutto costruendo la struttura del muro di contenimento allora andiamo a prendere alcuni blocchi che andranno a costituire il nostro muro quindi diciamo fondamentalmente quella lampada che sta qua sotto ti serve soltanto per sapere che la tartaruga non è sul circuito potresti comunque diciamo rimuovere il tutto e non mettere la lampada io preferisco averla altrimenti dovresti andare per tentativi che cosa mi sono preso? ok la lampada di Pia Rossa vado a sostituirla dovrebbe essere esattamente a questa altezza ok? esattamente così poi da questa parte io preferisco avere del vetro in modo tale da osservare da questa parte il posizionamento della nostra tartaruga questo lo possiamo chiudere insomma lo puoi completare come ti pare e piace ok? esattamente così poi andiamo a prendere le lastre allora un particolare attenzione bisogna fare in questo punto in questo punto che sto indicando perché se io scavo leggermente e scendo se dovessi posizionare un blocco completo come vedi il circuito viene interrotto te ne accorgi da questo punto quindi esattamente in quel blocco che ho distrutto qua possiamo anzi dobbiamo mettere una lastra in modo tale da non interrompere il circuito in questa zona potremmo mettere anche dei blocchi completi però secondo me per diciamo mimetizzare il tutto fermo restando insomma che essendo un passaggio segreto e siamo entrati soltanto noi diciamo saremmo noi quelli che diciamo conoscono questo passaggio ovviamente però per diciamo per dal punto di vista estetico preferisco una cosa del genere distruggendo questo blocco salterebbe la la pedana di ferro fallo insomma in fase di costruzione qua sto riempiendo semplicemente il tutto e a questo punto non resta a te che costruire lo stesso passaggio segreto ti rifaccio vedere comunque il funzionamento allora mi accerto che la tartaruga non sta sopra la pedana a pressione quindi quando sto all'interno utilizzo semplicemente il pulsante per aprire e per chiudere ok? quindi io sto uscendo clicco il pulsante e sta funzionando alla grande e in fase di uscita l'ho messo a questa distanza in modo tale da poterlo richiudere tranquillamente ok? si chiude il tutto quando voglio entrare è sufficiente accertarsi che la tartaruga non sia diciamo nella pedana a pressione quando sono qui qua posso mettere ovviamente l'espositore per far finta che ci sia questo riconoscimento di prateria di mare io prendo in mano la prateria di mare come vedi piano piano la tartaruga si avvicina me ne accorgo la qui me ne accorgo che la porta si è aperta ovviamente tolgo dalle mani la prateria di mare la tartaruga si allontana il circuito dovrebbe spingersi non lo sta facendo cosa faccio? l'ha fatto ok? la tartaruga si sta riavvicinando cosa faccio? prendo la prateria di mare la disattivo ok? quindi la tartaruga si muove un po' infine chiudo il tutto e la porta è chiusa fammi sapere se e dove intendi costruire questo passaggio segreto protetto dalla prateria di mare nel tuo mondo minecraft se non sei iscritto al canale fallo adesso cliccando sulla campanellina ed attivando tutte le notifiche poi commenta e metti un piacere al video ma solo se ti è piaciuto infine dai un'occhiata a queste playlist che ti suggerisco mentre saluto Matis59 Simone Common e Giulia che mi hanno chiesto di essere salutati e lo sto facendo in questo momento ciao 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 ciao